Siamo alle pagine sportive per questo martedì 6 novembre, tempo di bilanci dopo un fine settimana calcistico che ha regalato grandi soddisfazioni ai colori umbri e in particolare alle tre squadre professionistiche, tutte vittoriosi. Il Perugia ha conquistato la sua prima vittoria in trasferta, però Nesta sgrida il Grifo vincente. E' contento per il risultato, 3-2 a Livorno, ma facciamo errori stupidi, bisogna essere più cattivi. Grifo Perugia che continua a prendere troppi gol. Il tecnico ai suoi dice che la palla non deve scottare, per tirarci su ci sono voluti due schiaffi. E gli fa ecco Vido, autore del gol Vittoria, ci complichiamo la vita, dice certe situazioni vanno gestite meglio, siamo stati più efficaci di altre volte, più tranquillo con Verre alle spalle. Ieri sera intanto il posticipo ha visto la vittoria del Pescara 4-2 sul Lecce, una vittoria rocambolesca, Pescara in vantaggio poi raggiunto nel secondo tempo sul 2-2. Nel finale due espulsioni ai danni dei Salentini e nei minuti di recupero è arrivata la doppietta del Baby del Sole che ha regalato i tre punti al Pescara, ora primo in classifica. Il personaggio l'abbiamo visto in vetrina in questo weekend però arriva dal podismo, è Marianelli, Cristian Marianelli da Città di Castello, New York è tua, vivo un sogno, è stato il primo degli italiani, atleta 42enne, la carriera in bici, gli incidenti, la rinascita con l'amico Morini, non ho parole, dice questa emozione, mi resterà dentro per sempre. Questo il suo selfie, la foto col pettorale 1148, siamo certi, conserverà con Dovizia. Sir, siamo alla pallavolo, servizio a 5 stelle, la resistenza di Siena fiaccata dai 9 metri, ovvero dalle battute, ben 17 ace con Leon, grande protagonista. Intanto lotta contro il tempo per il recupero di Colaci, come libero sarà di già in campo domani sera la squadra bianconera per il nuovo turno infrasettimanale, mentre domenica al Pala Evangelisti o Pala Barton arriva il Modena di Velasco. Le Fere, Ternana con il calendario fitto per recuperare le giornate mancanti, si comincia domani da Fano, Fere in crescita con Altobelli, Vives e Rivas, crescerà ancora, qualche amnesia in fase difensiva ancora resta, ma tanto va, 4-1 a Monza, c'è poco da lamentarsi. Al Mancini di Fano arbitra Luciani di Roma, oggi Lentella ricorre al Tarre, ma ormai possiamo dire è folclore. Gubbio, ora la prova derby, mentre la Ternana pensa al Fano, il Gubbio già pensa alla Ternana, perché domenica sarà liberata, è alle 18.30, ricordiamo, dopo il Roboante è successo con una Corri, una classifica più tranquilla, c'è la gara del Liberati, Sandriani medita qualche colpo a sorpresa decisiva la settimana. Meno qualità, ma più resa, così la gara con Rimini rispetta quella di Salò. Intanto nel posticipo di ieri, la Tristina fa fuori la Gianna Erminio, che resta alle spalle del Gubbio, 3-1, anche se gli ospiti colpiscono 4 pali nel primo tempo. Compleanno speciale per il capitano Marchi, 33 anni per lui, il tempo passa, ma l'entusiasmo no, ha segnato il suo quarto gol stagionale, con il rigore contro i Rimini. Gemelli del gol, Nestor, lassù, siamo alla promozione, marcianesi primi con Davide Mattia, mattatori che dicono ci siamo sbloccati, ma l'importante non è chi segna, ma è vincere. E chi vince di sicuro è il Foligno, si vince facendo così, 20 anni decisivo negli ultimi due match, la ricetta giusta, la pazienza, la nostra arma a milione, facciamo sfogare gli avversari e poi colpiamo. Armilei vuole recuperare Zanchi e Francioni per le prossime due trasferte. Invece in promozione parla il numero uno del Petriano Collarini, ero nervoso, ho chiesto all'arbitro di andare via nel pari col Gualdo Casacastalda. Intanto dalle pagine nazionali le parole del presidente da FIGICI Gravina, ex presidente della Lega di C, che avverte serie A e serie B saranno a 20, Giorgetti ci aiuti, il sottosegretario allo sport e sul CT Mancini dice non l'ho scelto io, ma è il mio allenatore. Questo per il Corriere, andiamo alla Nazione ripartendo dalle parole di Nesta, contento a metà, basta errori così, dice il tecnico perugino, felice per la seconda vittoria, ma per pensare alla svolta dobbiamo evitare certi sbagli. Perugio ricordiamo già in campo venerdì sera contro il Crotone al Curi, gara che seguiremo in diretta con la puntata di Umbria Sport, qui dai nostri studi. Grifo in testa con otto rigori tra subiti e conquistati nella speciale graduatoria dei penalty. Ternana è imbattuta, la scalata continua dopo la travolgente vittoria Monza, i Rossoverdi vogliono ripetersi domani contro il Fano, possiamo lavorare in serenità e migliorare ancora, dice Gigi Decagno. Intanto a Gubbio la carica di Marchi, c'è tanto entusiasmo, continueremo a batterci con grande grinta e fiducia a cominciare dal derby. Foligno, vent'anni è il vizio del gol, qualcosa di straordinario, dice il trequartista. Il Bastia in serie B risorge, sale in classifica, tre vittorie di fila per la squadra di Bonura, l'obiettivo rimane però la salvezza. E poi Cannara che orgoglio, sempre in serie D, Rossoblu vittoriosi sul campo della capolista. Per la pallavolo Sirsefti mercoledì da Leon, non ci vogliamo fermare, domani la sfida a Vivo Valenza, Bernardi è una gara insidiosa. Mentre per il basket Umberti le dà applausi, nel maschile battuta Iesi. E nel pugilato Franco Falcinelli resta al vertice, c'è il mio impegno per l'Umbria, dice il dirigente di origini assisane, proprio ad Assisi c'è il centro federale di pugilato. Ancora volley, San Giustino tre punti peziosi con l'Ancona, per il basket SRAC il Gualdo mette paura a Recanati che però vince di quattro lunghezze. Chiudiamo la carrellata delle pagine sportive col messaggero, di nuovo ripartendo da Nesta, basta stupidaggini, titolo del quotidiano romano, dopo Livorno il tecnico non risparmia critiche per i gol subiti, una follia da tre partite, commettiamo le stesse scempiaggini. E non a caso il Grifo da tre partite prende due gol a gara. Ma ora si fa sul serio, arrivano le big, il calendario si irrobustisce, Crotone, poi Benevente Pescara, la maturità del gruppo all'esame delle grandi. Venerdì la squadra di Oddio, il Crotone, quindi la sosta e subito dopo altre due sfide toste. Per la Sir Perugia parla Lanza, siamo stati bravi a non mollare e bisognerà continuare così. Torniamo al calcio, Fere a vincere è il gruppo, torna il sorriso in Casa Rosso Verde dopo l'estate tribolata e le tante fumate nere nei tribunali. La Ternana ha travolto il Monza anche grazie alla forza dello spogliatoio, con i giovani che si sono ben inseriti. Bomber Marilungo elogia il lavoro di De Canio, non ci sono sostituiti, ma siamo tutti potenziali titolari. La scalata alla classifica di un girone senza leader e questo avvantaggia chi insegue appunto la Ternana. Cristian, il miglior a New York, ancora gloria per il Maratoneta Tifernate, è stato il più veloce tra i 3.100 italiani in corsa. L'altro record, Pier Giorgio Conti fa 17 nella Grande Mela, 17 le maratone a New York per corso, lo Spoletino ha chiuso in due ore e 48 minuti, che è anche un signor tempo. Bartoccini, bella vittoria in Sicilia, 3-1 contro Marzala e anche le Perugine dunque si ritagliano. il loro momento di gloria, seconda in classifica in A2 alle spalle del Sassuolo. È tutto per quanto riguarda lo sport, ma non per questo appuntamento perché abbiamo il meteo. E per questo martedì 6 novembre diamo un'occhiata alla grafica con le indicazioni a cura di Rick Mett. È una giornata di intervallo con cielo poco nuvoloso, variabile, senza precipitazioni di rilievo sull'Umbria. Durante l'arco della giornata, temperature stazionarie e nel tardo pomeriggio aumenterà la nuvolosità, di iniziare dal settore occidentale. Non c'è rischio precipitazioni, c'è qualche grado in meno nella colonnina di Mercurio, le minime tra i 5 e i 7 gradi, le massime non andranno oltre i 15-16 gradi. Questo per la giornata odierna. L'aggiornamento stasera, prima dei nostri TGA alle 19.30 alle 20.20, seguiti rispettivamente dal TG Sport alle 19.55 e dal TRG Plus alle 20.50. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo ovviamente l'appuntamento di stasera alle 21, come detto con AgriForum, si parlerà di lupi e di allevamenti, tema scottante per la nostra regione e ovviamente continuate a seguirci anche sul sito trgmedia.it. Grazie e buon proseguimento di giornata.